Equipaggio numero 2, Roberto Vellani con Dino Lamonato, Power Car Team in lotta per quello che è la finale del trofeo rally asfalto. Sentiamo dalla viva voce di Roberto, quali sono le sue impressioni dopo il primo passaggio sulle prove della 31esima edizione del rally due valli? L'impressione sul tracciato è molto buona, molto valida, come ho detto anche ieri sera in anticipazione, merita sicuramente la promozione in una categoria più blasonata. Per quanto riguarda la nostra posizione siamo partiti immediatamente all'attacco, già anche da ieri sera ho colpito il giusto, avevamo i numeri e le possibilità per poterlo fare, purtroppo già stamattina nella prova lunga, 9 km dalla fine della prova, un desciappamento improvviso da ruota ci ha fatto perdere parecchio tempo, prezioso. Nel cercare di recuperare sulla seconda ho commesso un errore, per recuperare anche l'errore della seconda, purtroppo sono incappati in un'altra slittata, in una piccola uscita di strada, nella terza. Siamo ancora qui, siamo ancora in lotta, ce la stiamo ancora giocando, abbiamo qualche punticino di vantaggio da giocarci con il signore, cerchiamo di rimanere attaccato il più possibile e fare in modo che non si trometta nessuno in mezzo fra me e lui. Il nostro obiettivo è rimasto questo. Purtroppo pensavamo di partire col piede giusto stamattina, però abbiamo avuto dei problemi, come ha già detto Roberto, che ci hanno sicuramente compromesso il risultato finale. Adesso stiamo gestendo, è dura, però ce la metteremo tutta. È ancora una gara all'insegna dell'incertezza sulle scelte delle gomme oppure prevedete che queste gomme possano definitivamente essere scelte per il prossimo passaggio? No, sicuramente, adesso noi studieremo un nuovo setup perché comunque calcolando che sono passate più di 160 macchine, alcuni tratti di strada saranno veramente molto sporchi e alcuni asciutti. Queste gomme sicuramente non credo che siano adeguate.